ciao a tutti oggi prepareremo la stella di pandoro con crema paradiso il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più il tempo di riposo in frigo gli ingredienti sono un pandoro mascarpone panna fresca per dolci messa per 45 minuti in congelatore zucchero a velo vanillina e miele diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame mettere la panna e 60 g di zucchero a velo e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5 la panna è ben montata trasferire in una ciotola capiente senza lavare il boccale mettere il mascarpone il miele lo zucchero a velo e la vanillina ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 2 trasferire nella ciotola con la panna amalgamare bene con la spadola trasferire in una sacca poche abbiamo tagliato il pandoro in quattro fette abbiamo svuotato la base e tagliato a fette spesse circa 3 centimetri adesso farciremo il pandoro chiudere con l'altra fetta di pandoro decorare la superficie abbiamo messo il resto della crema in una sacca poche con beccuccia stella grande adesso decoreremo le stelle di pandoro riporre in frigo per almeno un'ora stella di pandoro con crema paradiso grazie e alla prossima ricetta grazie grazie grazie